Buongiorno a tutti, eccoci bentrovati, andiamo avanti, si riapre un po' tutto, mi sembra che però adesso si sia anche un po' esagerando anche perché soprattutto qui in Lombardia-Milano la situazione non è così tranquilla come in altre parti d'Italia riapertura anche delle frontiere, niente più quarantena per chi arriva da fuori, attenzione e mi raccomando precauzioni sempre c'è molta confusione anche nel mondo del calcio per la ripartenza, ieri sera ho sentito su rete 4 il ministro Spadafora che si è detto sorpreso, insomma per tutte le polemiche che ci sono state sul protocollo per la ripartenza con il ministro che ha fatto notare come la proposta del ritiro dell'auto isolamento tra l'altro adesso pronto il teccaldo per cominciare bene tutti insieme la giornata come ai vecchi tempi la proposta dell'auto isolamento di due settimane delle squadre è stata avanzata dalla FIGC e non certo una richiesta del governo che è disposto a rivalutare questa norma dal momento che è molto difficilmente applicabile come spiegavamo ieri soprattutto per un punto di vista logistico vi ho fatto l'esempio dell'Inter ma così anche tante altre squadre forse solo la Juventus che ha il suo hotel, il J-Hotel può permettersi di tenere una cinquantina di persone in auto isolamento per due settimane, così non è per tante altre squadre il ministro comunque si è detto disponibile al dialogo anche a far ripartire gli allenamenti collettivi da lunedì senza auto isolamento, apertura anche sulla quarantena non di tutta la squadra ma solo del caso positivo così come si chiede, altro nodo da sciogliere quello della responsabilità penale dei medici, delle squadre in caso di positività di giocatori tutto da vagliare, da verificare anche in base a quelle che saranno le statistiche della prossima settimana soprattutto la curva dei contagi, gli effetti della prima riapertura e aspettando quelli della seconda con anche bar, ristoranti pronti a riaprire sperando che appunto si riesca a debellare a sconfiggere una volta per tutte il coronavirus questa è la situazione generale ma andiamola ad approfondire subito su Sport Mediaset prima di passare a parlare del caccio mercato pronti a rivedere la quarantena, protocollo, ho già visto i furbetti poi col ministro Spadafora che senza mezzi termini ha attaccato il presidente della Lazio Lottito, il protocollo previsto non è irrealizzabile o troppo rigido sono misure che sono legate al distanziamento e altre piccole cose per riaprire in sicurezza e permettere di ricominciare il 18 maggio tutti gli allenamenti degli sport di squadra e del calcio ripartiranno mantenendo le distanze, saranno diversi da quelli tradizionali almeno per le prime settimane il protocollo non l'ho deciso io sempre Spadafora, è stato proposto da FIGC e Lega ma ora la Lega dice che ha difficoltà a rispettare il protocollo da loro proposto che mancano le strutture lunedì dovevano riprendere gli allenamenti del calcio sulla base di un protocollo che un mese fa mi hanno proposto FIGC e Lega oggi capiamo che la Lega ha difficoltà a attuare il protocollo proposto le squadre dovrebbero andare in auto isolamento ma oggi si rendono conto che non hanno le strutture adatte ce lo hanno proposto loro, se non ne sono in grado ne prendiamo atto se la FIGC ritiene che non ci siano le condizioni per auto isolare tutta la squadra si adattino alle regole degli altri sport di squadra permettendo ai calciatori di tornare a casa la sera purché rispettino le regole minime come il distanziamento sociale poi sul caso Lazio abbiamo visto l'immagine del solito presidente Furbetto che ha fatto allenare la squadra insieme senza rispettare le regole se gli allenamenti non possono ricominciare come previsto ne riparliamo se tutto questo va in successione non vedo perché non si possa ripartire non si possa iniziare il 13 di giugno sulla questione quarantena vediamo quell'evoluzione che ci sarà nei prossimi 10 giorni quando dal 18 ci sarà la vera riapertura se la curva del contagio lo consente massima disponibilità a rivedere la norma sulla quarantena no all'ostruzionismo col presidente della FIGICI Gravina che sta lavorando alle modifiche del protocollo la quarantena un problema c'è l'ipotesi playoff per affinire la stagione al vaglio e poi oggi è il grande giorno della ripresa in Germania tutti gli occhi naturalmente sono sulla Bundesliga che riparte per vedere le modalità e come si riesce a ripartire intanto ad appiano tamponi per tutti i giocatori per Antonio Conte, per Marotta, Ausilio, per tutto lo staff seconda tornata per la squadra con lunedì attesi i risultati e questo potrebbe permettere poi a Conte di tornare ad allenare in prima persona ad appiano gentile in campo con mascherina ma non più a debita distanza di sicurezza a lunga distanza perché la distanza di sicurezza va comunque mantenuta nel frattempo è tornato Higuain a Torino dove comincerà la sua quarantena e vedremo se si rientrerà nella squadra o se invece adesso ormai Dybala ha preso il sopravvento e il posto nonostante il coronavirus questo quanto andiamo a parlare di calciomercato perché Merten sembra sempre più vicino l'Inter ha superato quella che era l'offerta del Napoli arrivando a proporre due anni da 5 milioni netti a stagione alla Belga 33enne che molto amico di Lukaku adesso sarebbe seriamente pensando all'ipotesi Inter una cosa che aveva escluso due anni fa parlando di Napoli e basta come sua unica squadra in Italia le cose sono un po' cambiate nell'ultima tormentata stagione con i problemi che ci sono stati l'ammutinamento le tensioni con De Laurentiis l'Inter adesso c'è stato anche uno scambio di documenti con lo studio legale Stier di Bruxelles che lo rappresenta si sta definendo il ricco premio alla firma che verrà dato al giocatore oltre appunto al contratto e anche a una possibile estensione in Cina per finire poi la carriera nello Jiangsu Suning Merten sembra orientato a dare il suo sì all'Inter che così supererebbe anche la concorrenza del Chelsea però cosa sta succedendo c'è un cauto ottimismo ma senza esagerare memory anche di quanto accaduto nell'ultima estate con Geico che aveva già dato la sua parola poi invece ha firmato il rinnovo con la Roma quindi si aspetta di mettere nero su bianco prima di dare l'ok definitivo accendere la luce sulla questione Mertens che in questo modo andrebbe a far contento Lukaku che potrebbe così giocare con il suo compagno e grande amico di Nazionale dimenticare la probabile cessione di Lautaro al Barcellona oggi su tutti i giornali c'è quello che avevamo letto ieri insomma le parole di Messi che lo considera un attaccante fortissimo completo in grado di proteggere la palla che lo invita praticamente a raggiungerlo a Barcellona la trattativa in questo senso prosegue e come vi ho detto a Sport Mediaset e vi rinnovo l'invito alle ore 13 il mio servizio la chiave potrebbe essere il prestito di Vidal che l'Inter non vuole inserire nella trattativa perché non vuole andare ad acquistare un giocatore di 33 anni che poi rimarrebbe sul groppo difficilmente rivendibile quindi una al biancio non farebbe certamente bene quindi 90 milioni Junior Firpo terzino sinistro ruolo scoperto potrebbe essere la contropartita giusta magari aggiungendo anche qualcosa al prestito di Vidal escludendolo dalla trattativa ma regalandolo comunque a Conte con l'Inter a pagargli l'ingaggio e potrebbe essere la soluzione per arrivare alla quadratura del cerchio con Zhang che non vuole scendere sotto quota 90 milioni cash più una o due contropartite in base al valore dei giocatori che però chiaramente l'Inter non vuole ipervalutare perché se no non ci sta questa è la situazione Lautaro mentre su Tonali appunto l'Inter vuole cercare di giocare d'anticipo e provare a chiudere al più presto possibile la trattativa col Brescia servono però delle iniezioni in entrata il Bayern Monaco ha lasciato scadere l'opzione di riscatto di Perisic come si era intuito come l'hanno anticipato perché adesso concentrato sulla ripresa della Bundesliga sulla cercare di vincere il campionato tedesco dopo la grande rimonta effettuata all'inizio 2020 e poi se ne riparlerà di mercato e di acquisti i tedeschi vogliono un forte sconto dei 20 milioni stabiliti l'estate scorsa non vorrebbero pagarne più di una decina 12 forse la cifra finale a cui potrebbe arrivare il Bayern l'Inter è pronta ad ascoltare proposte nel frattempo potrebbe anche riaccogliere Perisic ma è un'eventualità abbastanza remota comunque il giocatore garantirebbe una plusvalenza in ogni caso dal momento che ha bilancio per 6 milioni e mezzo poi si tratterà con il Paris Saint-Germain entro fine mese per i cardi la richiesta dell'Inter è sempre quella ferma di rispettare gli accordi presi quindi 70 milioni stabiliti l'estate scorsa i francesi vogliono l'inserimento di una contropartita uno sconto di trovare qualche modo per avere una soluzione diciamo migliorativa anche in virtù soprattutto della crisi da coronavirus l'Inter invece considera già di aver fatto un regalo ai francesi col prestito di un giocatore del valore di i cardi e pretendere che siano rispettati gli accordi vediamo cosa succederà in queste due settimane tempo fino al 31 maggio per riscattare i cardi e con quei soldi l'Inter conta di completare la sua squadra con anche Cavani come dicevamo ieri che adesso è diventata una richiesta esplicita di Conte per completare l'attacco e con Cavani Mertens Lukaku l'Inter può lavorare senza fretta all'ultimo attaccante della Rosa aspettare cosa deciderà di fare Lautaro Martinez però una posizione di forza avere già tre giocatori di questo calibro e pensare poi al quarto che se arrivassero gli incassi previsti potrebbe essere quel Timo Werner per cui c'è grande concorrenza ma forse l'Inter è la squadra che gli garantirebbe la titolarità è un progetto molto importante anche futuro rispetto ad altre società come Liverpool che si ha già vinto il campionato la Coppa dei Campioni però come dire non gli garantirebbe almeno per adesso la titolarità in un attacco con Salah Manet e Firmino tutto da vedere e verificare comunque la ripartenza vediamo oggi intanto la Bundesliga come ripartirà e quali saranno gli effetti nelle prossime settimane andiamo a cominciare la nostra rassegna stampa dalla prima pagina della Gazzetta naturalmente i titoli sono dedicati alla ripartenza in Germania e poi a questa apertura delle con le parole del ministro Spadafora su un'eventuale rivisitazione del protocollo e di alcuni nodi che stanno creando tante polemiche è la svolta punto di domanda Spadafora apre sui ritiri e la quarantena se tutto va bene il via sarà il 13 giugno il ministro dal 18 maggio allenamenti anche senza l'auto isolamento la regola sul contagio singolo si può cambiare a patto che la curva scenda intanto la Serie B vuole tornare a giocare data ipotizzata il 20 giugno in prima pagina Bundesmilan Ragnik vertice con Singer per mercato e Nagelsmann piano tedesco a giorni il summit col professore oggi occhi sul tecnico in campo con il Lipsia Germania virus test è vero qui si gioca il mondo guarda il calcio che torna e poi Messi vuole Lautaro fortissimo e l'Inter aspetta il sì di Mertens in casa nera azzurra entrano nel vivo le trattative per gli attaccanti Juve alla fine anche Iguain è tornato ma ora può rischiare di stare in panchina Ragnik il summit con le parole di Andreas Breme vecchio cuore nero azzurro Ragnik fa giocare bene le squadre ma deve scegliere che cosa fare la lingua potrebbe essere un ostacolo corse sorrisi Ibra tutto Milan per ora primo allenamento per Zlatan a Milannello poi l'apertura di Spadafora niente ritiri quarantena in forse così il ministro soccorre il calcio i club non hanno struttura adatta allora i giocatori tornano a casa sull'isolamento di squadra valuteremo meno rigidi se cavano i contagi poi polemica con Lottito gravina l'ipotesi playoff pronti a qualsiasi evento il calendario è ricco di impegni l'idea non è accantonata poi ripartiremo con la riforma le richieste dei medici se c'è un contagio club responsabili soltanto in caso di dolo o colpa l'Inail alleggerisce la posizione degli staff sanitari di Ama rimane il problema dei tamponi è difficile farne tanti in pochi giorni niente ritiri sarà più facile garantire tutte le misure anti coronavirus test da ripetere tre tamponi in dieci giorni in certe regioni sembrano troppi Juve il Pipita Torino sarà in isolamento per due settimane ma Di Bala è in fuga Iguain di rincorsa l'addio di Barzagli tra famiglia e studio e quel feeling con Allegri entrato in corsa nello staff di Sarri ha aiutato il tecnico con lo spogliatoio un futuro ponirsi al vecchio maestro e poi Leo che scossa l'interista è impressionante Barca alle strette Messi pressing per Lautaro poi ieri tamponi per tutti dopo il weekend Conte sarà libero gli esiti lunedì poi il tecnico potrà tornare ad allenare il Bayern fa scadere i termini per scattare Perisic vuole uno sconto quasi pronti per un imminente fase 2 degli allenamenti almeno a livello di test esami e protocollo le gambe dei nero azzurri restano pesanti i muscoli provati da questi giorni di corso individuali dopo i 58 giorni lontani dal piano gentile la fatica e l'indolenzimento erano nei programmi così come il secondo giro di tamponi avvenuto ieri mattina prima dell'inizio delle prime sedute di allenamento è stato anche il momento in cui l'Inter è riuscita a sottoporre la tampone che aveva dovuto saltare la prima sessione gli agenti in Lombardia restano ancora difficilmente reperibili ieri è stata la volta di tutto lo staff che gira intorno alla prima squadra dai dirigenti Marotta, Antonello, Zanetti Ausilio, Baccina ai fisioterapisti e soprattutto allo staff tecnico a completo Antonio Conte è stato tra i primi intorno alle 8.30 dovrà aspettare ancora un weekend prima di poter tornare al centro del campo a stretto contatto con i suoi giocatori a proposito di scadenze passati i termini per esercitare il riscatto di Van Perisic fissato a 20 milioni di euro i bavaresi restano soddisfatti del croato hanno intenzione di trattenerlo ma non a quel prezzo hanno chiesto un cospicuo sconto anche in virtù di un mercato che vedrà molte quotazioni a ribasso se ne riparerà intanto l'Inter sarebbe vicino all'accordo con Giorgios Vagiannidis terzino destro greco del Panatina Ecos classe 2001 in scadenza di contratto sarebbe stato convinto al trasferimento a Milano con la prospettiva di essere aggregato subito alla prima squadra e sarebbe un innesso importante sulle fasce che l'Inter deve rinforzare elemento molto interessante 19enne ma poi andiamo a leggere la questione Lautaro non lo molla implicitamente invita il Barca a fare altrettanto impressionante completo molto forte sono alcune delle parole che le ho messi usa per definire Lautaro Martini in una nuova intervista dopo quella di qualche mese fa in cui la sua passione per il Torre era venuta allo scoperto il giocatore più forte del pianeta va in pressing ma in fondo stavolta la cosa potrebbe quasi far gioco all'Inter sotto pressione infatti finisce la dirigenza del Barcellona e le carte sono sempre più scoperte per accontentare il suo capitano i simboli catalani non potranno che fare tutto il possibile per portare Lautaro in blaugrana è ormai metabolizzata l'offensiva che arriverà dalla Spagna la ferrea volontà di Messi finisce col dare una sponda all'Inter rendendo il club di Zhang più forte nella trattativa ultimatum richieste di cospicui sconti da parte del Barcellona avranno meno forza se proprio dovrà rinunciare all'argentino per la clausola e per la volontà del giocatore l'Inter potrà farla alle proprie condizioni le parole numero 10 arrivano con una trattativa già avviata una prima offerta catalana di 80 milioni di Lazionati più un giocatore che non soddisfa l'Inter il Barça aveva dato fino a fine mese fino a metà mese a Marotta ausilio per ripensarci facendo capire che altrimenti avrebbe potuto virare su un altro giocatore e per questo hanno contattato Timo Werner ma come vi ho detto era praticamente impossibile che si arrivasse a un accordo entro ieri entro metà mese come aveva ipotizzato la gazzetta l'Inter ha indicato in 90 milioni la quota cash da cui non vuole scendere per Martinez dirigendosi poi su Semedo Junior Firpo come possibili contropartite per arrivare virtualmente a quei 111 milioni della clausola di rescissione il primo quasi ultimatum del Barcellone quindi saltata anche se entrambi i club hanno comunque interesse a non trascinare in lungo in un senso o nell'altro una trattativa di queste dimensioni che cambierà totalmente il resto della loro estate di mercato per il Barça è importante chiudere presto il suo acquisto mediatico accontentare Messi e poi avere il tempo per provare a far tornare i conti concessioni anche pesanti l'Inter sa che per trovare un sostituto all'altezza del Toro e magari reinvestire parte degli incassati in altri riparti bisogna muoversi presto per bruciare la concorrenza specie su Werner e poi c'è la contingenza di una stagione anomala che potrebbe ripartire in modo intenso e proseguirà per tutta l'estate è meglio definire il futuro subito il pressing di Messi in fondo può non essere una brutta notizia di sicuro non lo è per Lautaro che fra tutti sembra essere il più calmo voci, logi, cifre non gli hanno mai strappato un commento o un ammiccamento via social se davvero vuole andare al Barca non ha bisogno di esporsi a uno sponsor importante che lo fa per lui e poi Mertens Zang aspetta sì Nerazzurri pronti a chiudere il Napoli prova ancora a convincere il Belga l'amico Lukaku lo spinge a Milano Cavani resta vivo Werner dipenderà da Lautaro leggiamo ancora la gazzetta Messi spinge Lautaro a Barcellona e Lukaku continua a chiamare Mertens a Milano nome di Driss dalle parti via della liberazione sta diventando sempre più caldo l'attaccante in scadenza con il Napoli il 30 giugno appetibile per tante squadre di primo piano l'Inter è messa sempre meglio nella corsa col Chelsea che spera di convincerlo Mertens è legatissimo a Napoli dove è arrivato nel 2013 ha più volte detto che in Serie A non si vedrebbe altrove per questo motivo la dirigenza azzurra spera ancora di poterlo trattenere al photo finish nel frattempo però c'è un Inter che spinge e che per il mercato che verrà vuole fare un colpo low cost di alto livello già a gennaio Marotta Ausilio si erano informati con Sudris poi il suo rinnovo con il club di Dele Aurenti sembrava cosa fatta ora riecco l'assalto con un'arma in più un'armona con quel numero 9 che rimane là appeso Lukaku in versione sponsor i due centravanti i compagni nazionali sono molto amici il numero 9 Nerazzurro sta spingendo non poco per poter giocare con Mertens con Lautaro che potrebbe da un momento all'altro dire sì al Barcellona e Sanchez destinato ad entrare a Manchester Mertens sarebbe il giocatore ideale per iniziare a riassestare l'attacco di Conte resta anche aperta la pista Cavani con il Paris Saint Germain con cui bisogna ridiscutere la questione Icardi e poi Timo Werner legato ovviamente all'uscita di Lautaro 24 anni tedesco il preferito di Conte per sostituire il numero 10 argentino flerta da tempo con Liverpool Di Klopp ha fatto un sondaggio con i suoi agenti magari solo per mettere fretta al toro nerazzurro in questo scenario la dirigenza dell'Inter sa che giocare d'anticio potrebbe essere decisivo per portare Timo a Milano andiamo al Corriere dello Sport in prima pagina naturalmente le parole di Spadafora questa riapertura per trovare una soluzione ai nodi che si sono presentati per la ripartenza la fase 3 dal la fase 2 dal 3 giugno spostamenti fuori regione ecco la Bundes se non si gioca libri in tribunale il campo può ridarci allegria l'intervista a Zola ritira e quarantena si cambia gravina resta l'ipotesi playoff e poi intervista esclusiva a Ceferin che avverte l'Italia chi si ferma paga conseguenze per chi non finisce il presidente del UEFA parole molto chiare poi Bund salvia contro virus e disfattisti il calcio tedesco riaccende il mondo poi quarantena playoff il blitz di gravina nelle prossime ore incontro con Conte c'è più serenità anche per la questione delle colpe dei sanitari in caso di nuovi contagi la FGC consegna ai consumenti del governo la versione protocollo riveduta e corretta dei medici la Serie A e grazie al decreto rilancio prepara anche un piano alternativo e spadaforo apre diamoci tempo ritiro proposto del calcio se non si può ne riparliamo poi per la quarantena vedremo tra una decina di giorni andiamo alle pagine dedicate all'Inter e a questo proposito mi stavo dimenticando facciamo gli auguri a Massimo Moratti per i suoi 75 anni il presidente dell'Inter il grande creatore del triplete Romelu Driss il belgio dell'Inter il napoletano l'uomo giusto per rinforzare l'attacco nero-azzurro in vista della prossima stagione l'arrivo di Mertens regalerà a Conte un formidabile tandem offensivo che ha già dimostrato di poter essere devastante in nazionale con 70 gol gol in salsa belga è tutto apparecchiato Lukaku più Mertens l'Inter lavora per consegnare l'attacco a chi come loro hanno intesa perfezionata da anni in nazionale insieme hanno segnato 70 reti quando si sono ritrovati nel Belgio un connubio che può riproporsi in nero-azzurro e avere effetti devastanti l'Inter deve guardarsi da estremi tentativi di Napoli e Chelsea ma si è molto portata avanti per Mertens ci sono dettagli a sistemare con l'antourage dell'attaccante per convolare a nozze l'Inter è in netto vantaggio chiaro che con Lukaku in squadra avrebbe argomenti convincenti con la possibile aggiunta di Vertong candidato a rinforzare la batteria belga il difensore del Tottenham ma occhio a forte interesse della Roma un altro che si libera parametro zero potrebbe occupare oltre al giovane Kumbul la casella che lascerà vuota Godin senza dimenticare Nainggolan per un Inter proprio in stile belgio poi gli elogi di Mels Messi Lautaro Martinez è impressionante Lautaro è ancora Lautaro ormai un'ossessione per i media catalani e così all'indomani della prima pagina dedicata al mondo deportivo al messaggio del toro nerazzurro che avrebbe chiesto specificamente all'Inter di trattare solo esclusivamente col Barca interrompendo la partenza in partenza tutti i discorsi con City e Manchester e Paris Saint-Germain ecco le parole di Messi anche qui riportate quello che abbiamo letto ieri nel frattempo arrivano nuovi indizi che potrebbero corroborare l'articolata operazione con Sponda Manchester che potrebbe portare alla fumata bianca la voce insistente del possibile trasferimento di Semedo al City che a sua volta aprirebbe le porte del ritorno di Cancelo all'Inter trovano conferma nella notizia che vedrebbe Blaugrana un passo dal promettente laterale destro dell'Ajax d'Est il 19enne esterno avrebbe rifiutato un'offerta del Bayern perché già d'accordo con il Barcellona coperta la fascia a destra l'Inter dovrebbe ottenere dai catalani Vidal più una cifra cash tra i 60 e i 70 milioni poi a piano non basta per i nerazzurri eseguito il secondo giro di tamponi già negativi per tutti potrebbe essere necessario reperire un'altra struttura per ospitare la squadra che sarà in campo anche questa mattina alternata in due gruppi nell'occupare quattro campi di allenamento ad appiano il trend è quello di una seduta al giorno con ieri si arrivate a 8 di seguito comunque sia una full immersion inedita rispetto a due mesi trascorsi nelle abitazioni con leggiamo gli allenamenti ad appiano gentile ora diventano però un'incognita il protocollo presenta qualche falla si affacciano difficoltà logistiche la società che si è resa capofila della ribellione in Serie A non potrebbe ottemperare regolamenti nel caso di un intero blocco squadra in ritiro il centro sportivo nerazzurro non è in grado di distribuire una persona per ogni camera qualora non venisse permesso di far avanti indietro da casa bisognerebbe appoggiarsi a una struttura a una struttura limitrofa allo scopo di ridurre contatti e spostamenti al di fuori delle partite ci sono meno di 30 camere in tutto da piano 25 situazione ingestibile se il ragionamento si allarga tutti i componenti dello staff si avrebbe a marappena una stanza per ogni giocatore per Conte ma poi toccherebbe arrangiarsi e l'Inter rigetta con forza questa soluzione come vi avevamo già spiegato e raccontato tutto sport in copertina naturalmente la situazione globale poi il ritorno di Higuain a Torino il titolo è abbastanza emblematico qui salta tutto ripartenza alta tensione tra Serie A e governo anche se poi dopo le parole in serata a rete 4 di Spadafora con cui abbiamo iniziato il nostro video hanno riaperto tutto ecco Higuain ma la testa è a River Lautaro Barca Messing in pressing Inter Mertens sì per quanto riguarda tutto sport è subito derby Dortmund e Schalke agli occhi di tutto il mondo Cefri insicuro i campionati l'80% finirà la stagione Gravina il quarantena i ritiri la norma è da modificare il presidente da FGC i play-off sono una possibilità Spadafora apre non faremo ostruzionismo poi andiamo alla pagina dedicata all'Inter Juve spesa in Sud America il pipite da Torino ora pensa alla Juve con in testa il River e poi nella pagina appunto nera-azzurra si parla di Messi che aspetta Lautaro è forte come Suarez pressing del Barca Martínez è un attaccante impressionante ma nell'affare l'Inter non farà sconti Zhang vuole almeno 90 milioni più uno tra Emerson Royal Semedo e Junior Firpo Vidal a parte e poi Mertens si Bayern per ora no a Perisic Milano che Lautaro Martínez va dal Barcellona alla fine resti l'Inter punterà comunque forte su Dries Mertens il Belga in scadenza con il Napoli ormai da mesi nel mirino del club Nerazzur che ha avanzato una proposta da 5 milioni all'anno per due stagioni più un'opzione per la terza e un bonus importante alla firma l'offerta di Marotta sembra aver fatto breccia sul Belga combattuto se dire addio all'amato Napoli scendendo di rimanere in Italia o andare in Premier più passano i giorni più arrivano conferme sul fatto che l'Inter sia in pole con Mertens che avrebbe dato mandato di cercare casa a Milano poi Moratti 75 anni Nerazzurri ha vinto più del padre Angelo alla guida dell'Inter dopo 11 anni per lo scudetto è speso un miliardo ci eravamo ricordati bene dunque oggi il presidente del triplete compie gli anni e resta uno tra i più grandi tifosi concludiamo con Corriere della Sera e Repubblica prima dei saluti Corriere della Sera che dà conferme nelle pagine dello sport su questo accordo tra Inter e Mertens per con un sì che viene dato quasi in certo nelle pagine sportive però la prima pagina riapertura tra le tensioni scontro regioni governo poi l'intesa dal 3 giugno si entra in Italia senza quarantena questo per metteremi che mi fa abbastanza preoccupazione ancora divisioni sulla riapertura scontro tra governo e regioni poi nella notte l'approvazione del decreto dal 3 giugno si potrà entrare in Italia senza quarantena sia le seconde case niente buffe nei ristoranti al mare sdraio sanificate mascherina nei negozi lite sulle regole poi il via libera il 3 giugno frontiere riaperte le linee ipotizzate dal linea il al mare nei bar sconto sui metri si parte su lunedì andiamo poi all'interno l'appello alla concordia di Conte negozi spostamenti cosa si può fare da lunedì ieri comunque 242 decessi ancora di cui 115 sono in Lombardia nelle ultime 24 ore rilevati 789 nuovi casi positivi i pazienti in terapia scendono però quasi 5000 guariti i malati più 0,4 però primi segnali di rischio in fase 2 massima allerta su Milano il monitoraggio a 12 giorni dalla fine del lockdown l'indice di diffusione del virus resta basso ma sommati casi in attesa di tampone si avvicina alla soglia critica motivo per cui non si può allentare la presa concludiamo velocemente con la prima pagina di Repubblica questa intesa per il passo successivo per la riapertura anche di quello che rimane chiuso 4 mesi per salvarci Conte il messo non serve lo accetteremo solo se lo prende la Francia l'allarme dei sindacati troppi senza lavoro ora servono riforme ecco le storie di chi non ce la fa dal 3 giugno riaperte le frontiere le regioni convincono il governo nei locali un metro di distanza ma mi raccomando non allentate la presa mascherine guanti distanza di sicurezza uscite solo se è fondamentale state sempre molto attenti perché dobbiamo vincere questa lunga e difficile battaglia grazie a tutti